Giovanino ci sono due una e basta e basta è da lui che sto male e non lavorare c'erano altri naselli grossi c'erano tutti i schiacchi di solito te ne mette la casa se ce ne sono pochi, le due, le due 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 un po' di tre mi sento buona, mi sento grazie tu ritrati perché non ci sono io qua se no io gli aiutavo prima il culo è fatta ci vedo poi 10 più bini e ti darai messo anche il culo uno che tira aspetta che prendo le pazzette hai l'ottoc 전 le pallone Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.